Lezione numero 5 19 Terminazioni in Edo Aie Esempio Arredo Accedo Credo Professione di fede Erede Erede Ledo Preda Piede Scheda Sede Eccezioni Forme verbali di Vedere Io vedo Egli vede Forme verbali di credere Io credo Egli crede Il vocabolo fede Regola numero 20 Terminazioni in Esi Esempio Tesi Mimesi Catechesi 21 Terminazioni in Esimo Esempio Ventesimo Centesimo 22 Terminazioni in Estro Esempio Alpestre Bimestre Destro Finestra Minestra Minestra Maestro Orchestra Palestra Pedestre Regola 23 Terminazioni in Estro Esempio Celeste Detesto Detesto Festa Foresta Gesto Lesto Mesto Molesto Manifesto Presto Resto Testa Tempesta Sesto Peste Morbo Eccezioni Desto Peste Impronte Questo Codesto Pesto Cesto 24 Terminazioni in Erno A I E Esempio Alterno Eterno Esterno Fraterno Governo Inferno Moderno Quaderno Eccezioni Scherno 25 Terminazioni in Etto A I E Esempio Accetto Aspetto Affetto Confetto Concetto Diretto Sette Dialetto Getto Eretto Diretto Insetto Etto Retto Petto Progetto Credetti Gemette Eccezioni Dimetto Detto Fretta Gavetta Metto Netto Stretto Corsetta Navetta Operetta Rosetta Uvetta Per oggi è tutto Alla prossima lezione da Fabio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti